www.feyyaz.tv Guardate che quota che lo Stinson ha fatto, che con quattro persone a bordo è anche lo Stinson, anzi in realtà sono solo due se n'è il vero, però noi abbiamo tutto un carico di merci che tra qualche minuto vedremo, quindi prestiamo molta attenzione a questo, attenzione al primo passaggio. Piotto, ve lo volevo ricordare, da Stefano Rastello, eccoli qua, i primi tre della squadra nazionale paracadutisti si sono appena lanciati, vieni qua sopra, vieni qua sopra Stefano. Attenzione! Presidente abbiamo di nuovo bombardato il campo! Passaggio velocissimo! Allora, te lo dite assi di qua! Allora, saluti a tutti! Guardate la striscione! Naturalmente Rastello è a Biella, sono gli amici del gruppo di Biella qui presenti. Ok, abbiamo sganciato lo striscione, intanto abbiamo del traffico in arrivo, ma naturalmente stiamo effettuando il programma con Viero Rastello e Stefano. Va bene, attenzione! E' una sorta di un'altra squadra! E' unaudsione! E' una cosa che ho fatto, perché abbiamo in tutto il bombardamento, con esibito da Viero Rastello e Stefano. Allora, vediamo a Erdi, erano dei listi bianesi. Sfianciamo il rostruzione in questo momento, eccolo qua, Stefano si presenterà subito nel sostenimento di atterraggio. Atterraggio, bravissimo Stefano, bravissimo, atterraggio, grande applauso, dai!